I quaranta sul divano Cosa direbbe Freud di no? Delle venti, dite di quadri Sulla mia tv Tutto il giorno in luce Anche io sono in vendita E il prato scende giù Anche il secondo di più C'è qualcuno che mi guarda Sulla mia tv Tutto il giorno in luce Non c'è qualcuno che mi guarda Mi stanno bello Mi stanno bello C'è qualcuno che decide Tutto il giorno in luce Torni a casa Ubriaco Accendi la tv Faccio quello che vuoi tu Delle venti, dite di quadri Sulla mia tv Tutto il giorno in luce Non c'è qualcuno che mi guarda E il prato scende giù Ogni seconda di più C'è qualcuno che mi guarda C'è qualcuno che mi guarda Dice di quadri Che capisci la faccio Oh, io non sono io Torni a vendita di quadri Torni a vendita di me Sono praticamente gratis Chiamo loro parti d'occasione Sono i punti di supermercato Rai mi nando per voi 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 Sì, 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 sì Il Dio di Lai Il Dio di Lai Il Dio di Lai Il Dio di Lai Il Dio di Lai